o buonasera ragazzi eccoci ancora una volta sul canale tecno alex 73 oggi siamo qua per un unboxing di un pacco arrivato da amazon vediamo cosa abbiamo questi pacchi apri e butta via la file tv stick di amazon con telecomando tanta roba vediamo un po cosa c'è dentro super sigillata perché voglio dire teoria dovrebbe esserci sistemare per aprile senza l'uso parti ecco qua andiamo qui c'è abbiamo la scatola allora quanta roba carica batteria sono anche già le due pile comprese per il telecomando questo deve essere telecomando ecco qua con anche comandi vocali quindi basta tenere premuto il tasto dedicato e uno dice gira canale apri netflix e in teoria dovrebbe aprire netflix sul televisore con una volta che uno ha sistemato e configurato la chiavetta che è questa qua esatto la chiavetta è questa qua c'è le istruzioni va alimentata e si può alimentare sia con la presa corrente alla staccato alla spina oppure collegare direttamente il cavo senza la spina alla usb del nostro televisore e mi pare che sia implementato anche il sistema remoto per per installare applicazioni su questa chiavetta degli apk quindi si collega al pc sempre col suo cavo e si possono installare apk di terze parti quindi ci si può mettere un po di tutto sopra poi vediamo qua cosa abbiamo ancora aveva i libretti di istruzioni qua c'è il cavo che è anche abbastanza lungo usb micro usb problema poi sarà di mettere tutto dentro la scatola perché sembra tutto abbastanza questo hd hd per allora fatemi pensare un attimo perché la chiavetta questa si mette direttamente attaccata al televisore questo cos'è la prolunghetta forse si mette così forse non ha lo spazio ma questa è una prolunghetta hdmi vabbè io tanto utilizzerò direttamente sul televisore quindi metterò questa nell'ingresso e poi qua di lato la micro dove c'è la porta micro sd micro usb la collegherò la usb del televisore in modo che sta sotto corrente quindi la metterò al posto della chiavetta di nauti v ok questa è detto una prolunghetta che hanno messo in più va bene e cosa buona che mettono anche le due pile ma non è da tutti metterci anche le due pile ottima la confezione è fatta bene quella compatta tutta in carta riciclabile riciclata e niente adesso poi la metterò su e probabilmente la proverò vi farò vedere come funziona ok ragazzi mi raccomando i pollicioni iscrivetevi intanti al canale e un ciao a tutti un saluto e al prossimo video